Oggi cancelleremo dalla mia rubrica il numero di una vera e propria stronza. Film pure il procedimento. Mangia ceci. Ecco, rubrica. Cerca. Ecco questa fottuta stronza. Guardate, un po' cancella. Certo. Sì! Il mio tipo improvvato! Questo è pazzo. È morte a scrivere il suo nome sul Death Note. Quella fottuta stronza Ma cosa ti ha fatto? Io sono stronza e qualche problema Io lo sono ancora di più Io lo sono di più Io I am a demon I am a demo emo emo Cazzo ha detto Taglia questo video Va bene Addio